Definirlo un pasticcio e dir poco. Il Governo nazionale attraverso il Ministro della Salute Lorenzini ha impugnato il provvedimento emanato dalla Regione Campania, la legge numero 26 del 28 settembre, relativa all'organizzazione dei servizi a favore delle persone in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello spettro autistico. La Regione Campania, come si ricorderà, era stata la prima in Italia a prevedere una rete di assistenza per l'erogazione di servizi da quelli territoriali a quelli ospedalieri con le istituzioni di equip multidisciplinari per la presa in carico, la diagnosi e la cura dei minori affetti da autismo. All'epoca si parlò di provvedimento di straordinaria importanza, accolto con favore dalle famiglie da sempre costrette a lottare quotidianamente con la patologia, in quanto finalmente si riconosceva attraverso il servizio sanitario un'assistenza chiamata a predisporre un piano operativo per garantire l'assistenza a tutte le persone affette dai disturbi, abbattendo così le lunghe liste d'attesa. Ebbene, secondo il Governo centrale, la legge numero 26 interferisce con le funzioni del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Campania. E così, mentre gli utenti continueranno a vivere la frustrazione di cure disorganizzate ed erogate senza una strategia comune, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dovrà difendersi davanti alla consulta dall'impugnativa del Governo contro un ricorso che lo accusa di aver violato la Costituzione. E come Governatore, considerandolo parte lese in quanto commissario ad acta alla sanità. E così, mentre dalla Giunta regionale si fa professione di coraggio, in quanto parte della maggioranza è fermamente convinta ad andare avanti su questa strada, ciò che più stupisce è la totale assenza di dialogo istituzionale tra Ministero della Salute e Governo della Campania, tra Beatrice Lorenzi e Vincenzo De Luca. A volte ritornano. Beh, io ho saputo ieri sera di questa legge che il Governo ha bloccato. Credo che la Regione, rispetto all'impalcatura dell'organizzazione dei servizi territoriali, li porterà avanti sicuramente, anche perché, voglio dire, questi sono i bisogni e le necessità che hanno le famiglie, in particolar modo dei bambini autistici.